Abbiamo fatto analizzare le convenzioni perché in ogni convenzione abbiamo notato che ci sono prestazioni aggiuntive improprie rispetto alla degenza dell'anziano. Alcune case di riposo fanno pagare il televisore, alcune case di riposo fanno pagare il servizio ludico, alcune case di riposo fanno pagare il servizio d'animazione, alcune case di riposo non rispettano la normativa regionale per esempio quando un paziente è ricoverato oppure ha un trattamento di alimentazione procurata. Per cui è emerso un dato un po' preoccupante perché questa quota incide notevolmente sulla retta che già è alta, arriviamo intorno ai 300-400 euro. Facciamo un esempio, lei riportava in conferenza stampa quello delle peccette, di che cosa si tratta e quanto fanno pagare? Questo è un dato che mi ha lasciato alquanto perplesso perché abbiamo una casa di riposo che fa pagare 1,20 euro pro di e pro capite quindi per ogni ospite e per tutti i giorni per la numerazione dei capi d'abbigliamento. Quindi il capo d'abbigliamento che devono dare la vanderia viene numerato per evitare ovviamente che i capi vengono riconsegnati non alle persone legittime proprietari e questo servizio viene fatto pagare 1,20 euro. Oppure la televisione in camera 0,70 centesimo, qualcuno fa pagare l'aria condizionata, ecco tutte prestazioni aggiuntive che dovrebbero rientrare nel comfort di queste persone che sono adegenti in una casa di riposo. Oppure al momento dell'accoglienza dell'ospite nella casa di riposo dovrebbe essere chiaro a tutti i familiari che accompagnano un loro persona anziana dentro la casa di riposo quali sono le prestazioni aggiuntive. Avete trovato anche un fondo perduto che in realtà non è proprio nella norma? Sì, abbiamo trovato una casa di riposo, questa nel comune di Fano, che fa pagare una quota di 1.500 euro a fondo perduto. Ecco, chiediamo a questa casa di riposo di rivedere questa norma perché è a fondo perduto, non è né un fondo cauzionale né un fondo spese, ecco per cui una persona che deve entrare in una struttura oltre a pagare la rete deve versare anche anticipatamente 1.500 euro. Chi dovrebbe controllare? Dovrebbe controllare l'ASUR, dovrebbero controllare i comuni e noi chiediamo, che questo è quello che sta avvenendo in questo periodo, che i familiari siano molto più attenti quando firmano le convenzioni, magari possono venire anche al sindacato per informarsi, per vedere se le convenzioni e le regole sono rispettate e applicate correttamente.